Bella a tutti ragazzi, sono Steve, oggi siamo qui in questo video, sempre su sito online, su PS5 Oggi è l'ETS di Steffi, l'ETS di Steffi con la Porsche, attenzione, noi avevamo già giocato in live L'altro ETS con la Porsche, quello con, diciamo, il ponte, il ponte troll Invece questo non dovrebbe averci, quindi dovrebbe essere un pochettino più facile da questo punto di vista Poi vedrai, occhio qua, un nico già beccato, oh, easy, cioè dall'altro, mi dispiace, poverino Cioè, è uscito subito, primo round, è morto subito, cioè dall'altro, mi dispiace, povero Nico Povero Nico, allora, aspettate, là, qualcuno era là sopra ed è caduto, va bene Ehm, dove stanno? Non ci sta, sul ninja sotto, molto bene Comunque, questo non credo sia anti-chit, l'altro era anti-chit con la Panto, questo mi sa che non lo è Quindi, eh, sarà un pochino più, sarà un pochino più difficile perché gli altri cittano L'altro è cittano, è cittano, è cittano, è cittano, è come al solito io, capito, nella squadra opposta Che gli altri, invece di là, sono fortissimi Un solito e sta scappando, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Facciamoli il panino, no, dove va? Dove è andato? Ah no, dove, ok Non so cosa ha fatto, aspetta, andiamo a beccarlo, andiamo a beccarlo E rimane solo più lui, più, più Alex Alex, credo sia sopra perché non lo vedo, non lo vedo qua È sopra, è sopra, è sopra, allora andiamo Gli altri penseranno a Salt, io penso, eh no, niente Penso ad Alex, è già andato, mannaggia lui Mannaggia lui, io volevo ucciderlo, mannaggia E niente, niente, niente Là stanno facendo guerra per chi uccide Salt E niente, volevo provare ad andare ad aiutarli Niente, Salt, Salt mi sa che resta raggiunto Forse, forse, vedremo E niente E niente, tutta la squadra è morta in il prossimo round Eccoci qui Siamo qua Secondo round Allora, adesso tocca a noi andare con le BMX Non lo so, eh, non lo so, vi dico Nel senso, potrebbe essere veramente troppo Io direi, aspettate, lasciamo di andare avanti Lasciamo che la coda vada avanti Ma nel frattempo, va Va la mente, guardalo Pure lo simboletto della crew grandissimo Allora, ah Steve, ma Guarda Salt che scrive che sta di là Come fa scrivere così veloce Mamma mia E niente, niente Salt è fuori di là, vannaggia lui Andiamo che Diciamo Sembrano tutti concentrati Là c'è un vicio che È bello trollato Ok E poi qua ci sta un Pietro Bello trollato E niente Sono tutti trollati Diciamo che per adesso non sono concentrati su di me O forse Cioè non si sa Vedremo Io provo ad andare avanti Pure Gregorio l'hanno ucciso E scappo, scappo, scappo Mi hanno visto, mi hanno visto E niente, niente Ce l'avevo fatto, ce l'avevo fatto Per adesso, per adesso Allora Qua C'è un saltino C'è un saltino Allora Ma chi ci sta là È l'Imoz Ma Mannaggia È sta là Mi aspetta, mi aspetta, mi aspetta Niente Ci dobbiamo fare Io vado, io vado Io rischio Io rischio Veloce 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 Ok Molto bene Maru Che combina qua Come si incastra Che pure il suino uguale a Milo No E niente Tutta la squadra è morta Mannaggia Salt Cittone Niente Il prossimo round Eccoci qua Terzo round Allora Adesso andiamo con le macchine Cerchiamo di concentrarci O di cittare Io lascio cittare agli altri Io provo a killare qualcuno Allora Andiamo 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 Però Cerchiamo Allora I primi due round Di riscaldamento Se da un lato Se dall'altro Adesso vediamo Qua sto Alex Che salto ha fatto Ma Ok Va bene Mamma mia Dove andiamo Aspetta Aspetta Lui mica è stupido Guarda Che aspetta Giustamente No Arrivano tutti Adesso Alcuno andrà No Aspettate 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 Ok Manu Arrivano tutti Che è sta storia Ma lì sotto Sto i limots Che passa Va bene Aspettate Mi vado Mi vado Mi vado Vai Che volta Poveretto Stavolta Stavolta Se la becca La trollata Allora andiamo Non so effettivamente Come siamo messi Credo che qualcuno Avanti sta Credo Aspettate Uff Stanno avanti Stanno già No Sono già arrivate le armi Sono già arrivate le armi Occhio Aspetta Stosera Stasera Ma Che è arrivato le armi A mappa A mappa Sembra un nostro Un nostro Un nostro Alleato Sembra Adesso vediamo Adesso vediamo Aspettate Ci sta Manu Che sta pure a piedi Ammolato dalla BMX Aspettate Adesso mi giro Vediamo un po' E niente No Sì Sì Qualcuno è arrivato In nostra squadra Mi sa Oh Meno male Pietro Grandissimo Accitato Mamma mia Mamma mia Alex che provava A nascondersi Radar Cosa pensavo di fare Vieni qua Manca solo Cusera Aspettate Dai Killalo Guardalo Non è morto Non è morto Non è morto La lava C'è questa cosa Cadevo Cioè Mannaggia Andaggia Guarda dove scappa Tutti qua Vado a passare Devo killare Aspetta Sono passi rotati Vai Oh oh L'ho buttato giù Lasciatemelo a me Lasciatemelo a me Vieni qua Vieni qua Vai No niente L'ho ucciso Pietro L'ho ucciso Pietro Niente Tutte le kill Se avate Pietro Niente Round vincitori Meno male Prossimo round Eccoci qua Quarto 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 round E se non erro Ho messo tre round Loro ne hanno vitti due Noi ne abbiamo vitto uno Se loro vincono il terzo Abbiamo perso Quindi attenzione Pietro Cosa Cosa fa Guardalo Ma arrivi alle armi Trolli pure Mannaggia Mannaggia Dove scappa E niente Niente Tendiamoci un'altra BMX Vedete un po' Vanno avanti Anzi Io appunto Volevo aspettare Di nuovo Ma è prima Allora Vicio Che convini Ma Che fa Che fa Che fa Non mi trollare anche te Ah no Fa il potere Fa il potere In BMX Non si può fare il potere Io non scendo Perché se no Mi trollo Allora Aspettate Andiamo Ho qui su un gestaggio Va bene Va bene Allora Andiamo 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 Per ora Non c'è nessuno Si non c'è nessuno C'è sera Mannaggia Però Per adesso Non vedo nessuno O sto Concentrate E cittare Non lo so Comunque Alex Ho letto che è morto Quindi Già Già bene Già bene Mannaggia Bisogna ucciderlo Bisogna ucciderlo Meno male L'hanno ucciso Allora Io vado Io vado Io vado Disturbato Perché Amappa Amappa Prena Niente Siamo morti Morti Sul colpo Mannaggia E li mozze Niente Speriamo che qualcuno Arrivi le armi E niente Purtroppo Sono arrivate Le armi I nemici Stanno uccidendo Malamente L'hanno ucciso Mannaggia Dio E li mozze L'ho ucciso Mannaggia E niente Round perdente Anzi Partita perdente Niente Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Veramente Bell Il TS Seguitevi su Instagram E niente Iscrivetevi Non ci vediamo Il prossimo video Bella